Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Signor dei Signori si ascose per avere l'impero dei cuori. Dei voi figli lo suono qui pronto. O Signor dei potenti di adotta, perivise l'improda perduto, perinevo l'improda chiesa. Signore Gesù, sostenuti dal tuo pane di vita, vogliamo camminare con te e con tutta la Chiesa, perché la costruzione del tuo regno vi venga la nostra passione. Aiutaci ed esaudiscici le nostre preghiere. Noi ti preghiamo. Signore pane di vita nuova ascoltaci. Ascoltaci. Grazie a tutti. Per tutti noi, perché l'ascolto della parola di Dio nella liturgia e nella preghiera comunitaria e personale sia il luogo in cui ciascuno scopre ed accoglie il progetto di Dio nella sua vita. Preghiamo. Signore pane di vita nuova ascoltaci. Signore Gesù, tu sei chiamato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darsi oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarsi alla tentazione, ma liberarsi dal male. Signore Gesù, tu sei chiamato il tuo regno di vita nuova ascoltaci. Signore Gesù, tu sei chiamato il tuo regno di vita nuova ascoltaci. Signore Gesù, tu sei chiamato il tuo regno di vita nuova ascoltaci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.